Per raggiungere il successo nel lavoro, è importante mantenere un atteggiamento positivo, concentrarsi sugli obiettivi e lavorare sodo? Assicurati di prendere le tue responsabilità a cuore, mostrare iniziativa e sviluppare le tue competenze. E' inoltre importante che tu abbia degli obiettivi a lungo termine. . Cerca anche di utilizzare opportunità come mentoring o lavoro in team per ampliare la tua esperienza. E' inoltre importante riconoscere i tuoi successi e quelli degli altri. Che tu stia lavorando in un'azienda o che tu sia un imprenditore, assicurati di avere una buona conoscenza dei tuoi settori commerciali e delle tendenze relative al mercato. Cerca anche di esplorare le possibilità che hai a disposizione e di espandere la tua rete di conoscenze quando possibile. Per mostrare iniziativa e sviluppare le tue competenze, è importante essere disposti ad apprendere ed esplorare nuove opportunità. Puoi farlo prendendo parte a corsi di formazione o di aggiornamento per imparare le competenze più richieste nel tuo settore. Puoi anche fare ricerche per osservare come vengono gestiti altri progetti simili e trovare nuovi modi per migliorare il tuo lavoro. Uno dei segreti più importanti per avere successo nel lavoro è la perseveranza. Devi mantenere un atteggiamento positivo e motivato nonostante le sfide, lavorare duramente per raggiungere i tuoi obiettivi e essere disposto ad adattarti ed evolversi con il tuo settore. Per aumentare la perseveranza, è importante concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine che vuoi raggiungere. Assicurati di stabilire obiettivi realistici che siano entro il tuo controllo. Prenditi del tempo per definire le tue priorità e pianifica come raggiungerle. Punta anche a identificare passi piccoli ma misurabili da compiere per arrivare al tuo obiettivo. Cerca di ridurre al minimo le distrazioni. Non spederemo le distrazioni. Grazie a tutti.